A seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica e svolte dalla NIPAF, Carabinieri di Catania e dalla NORAS, Corpo Forestale, sono stati individuati i presunti autori dell'aggressione compiuta il 17 dicembre scorso all'interno della pineta di Lingua Glossa in zona B del Parco dell'Etna, a danno di due ciclisti che avevano fatto loro notare di aver danneggiato, unitamente ad un numeroso gruppo di motociclisti, le aree boschive in area soggette a stringenti vincoli naturalistici. Le indagini hanno preso avvio a seguito di una denuncia del presidente del Parco dell'Etna, corredata da un video dell'aggressione ripresa da uno dei due ciclisti che erano stati insultati e colpiti con il casco, pugni e calci. In esecuzione delle disposizioni date dalla Procura, i Carabinieri Forestali, gli agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana e della stazione di Zafferane e Tinea, hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione nelle abitazioni di SA di anni 26 e PK di anni 45. I militari hanno rinvenuto le moto con cui erano state realizzati illesciti ambientali, nonché l'abbigliamento utilizzato dagli aggressori. Le moto e gli indumenti sono così stati posti sotto sequestro. I due soggetti sono indagati in concorso per i delitti di violenza privata, deturpamento di bellezze naturali, beni paesaggistici e violazione della legge sulle aree protette. È stato infatti accertato che il passaggio dei motociclisti fuori strada aveva lasciato evidenti e profondi solchi sul terreno che era stato scavato dagli pneumatici tassellati. Essendo l'area aggravata dal vincolo idrogeologico, ciò ha determinato un serio pregiudizio e anche un'integrità ambientale dei luoghi e la loro quete, la stabilità del suolo per una marcata propensione al fenomeno erosivo del ruscellamento e alla distruzione della rinnovazione di specie vegetali autoctone. Ai soggetti sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per violazioni al regolamento del parco per un totale di oltre 1.300 euro.